ben tornati in diretta con buongiorno weekend allora intanto ringrazio andy che ci augura buona pasqua perché è l'unica puntata di buongiorno weekend questo weekend in effetti sì domani ovviamente ci riposiamo perché siamo tutti a festeggiare a mangiare tutti per la pasqua e poi ci scrive la prima volta che sono scesa marisa ci scrive la prima volta che sono scesa in calabria sono rimasta sorpresa nel trovare la spiaggia piena di quei ciottolini striati bellissimi in riferimento alla magia di questi sassolini di cui abbiamo parlato con raffaella ceres allora alle mie spalle già lo vedete qualcuno e in effetti sono qui con noi the public radar max alto e francesco conte buongiorno buongiorno benvenuti a buongiorno weekend grazie grazie per l'invito sono molto felice di avervi qui ospiti in questo salotto molto colorato molto pop diciamo perfetto ok è abbastanza esattamente quello che ci sono pop sì 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 gli abbinamenti lo sono lo sono lo sono the public radar allora intanto capiamo quando nasce il gruppo e perché cioè voi siete amici eravate amici da tanto tempo siete amici ancora adesso oppure quando è nato the public radar faccio un riassunto allora io e francesco ci conosciamo che eravamo bambini bambini insomma ragazzi ci siamo conosciuti a un concerto dei fear factory che era in un locale che neanche esiste più stiamo parlando del frontiera adesso non so neanche cosa sia forse vende cucine o qualcosa e ci siamo conosciuti lì abbiamo formato insieme non eravamo soltanto di lui ma insieme a due ex componenti dei dam mauro munzi e massimo conti che erano appena usciti dai dam un gruppo che per chi si ricorda hanno fatto sanremo con un discreto successo e facevamo questo gruppo si chiama web che era un gruppo grunge insomma in italiano cantavamo però rock abbastanza e con lui è tutta la vita che suoniamo insieme qualche modo abbiamo sempre fatto dei progetti fino a che nel 2012 che era più o meno 2012 era un po' che non suonavamo e lui mi propone di fare questo progetto synthpop o quantomeno insomma un tentativo di synthpop un po' anni 80 un po' così insomma piano piano abbiamo cominciato a trovare una nostra identità un po' alla volta anche perché all'inizio eravamo in cinque nel gruppo adesso li abbiamo cacciati via tutti più un produttore e che produttore anche che vi aiuta spesso in alcune tracce ha collaborato con noi in quest'ultimo album che si tratta di trattasi di steve lyon per chi non sapesse che steve lyon ha collaborato in passato con un po' di gruppetti tra cui Depeche Mode e The Cure e poi insomma ha lavorato anche con Paul McCartney insomma con Gentaglia e sì ci ha aiutati ha curato una parte diciamo non è stato soltanto il produttore perché è una coproduzione abbiamo lavorato insieme però la parte del mix è quella completamente sua quindi ha fatto un bello tanta roba faccio la domanda difficile a Francesco perché The Public Radar? eh te l'ho detto però questo è molto più difficile della sua però sì lo so mi rendo conto allora l'idea quando abbiamo cominciato a fare questa cosa insieme l'idea della musica era già chiara nel senso per noi l'idea musicale è arrivata molto prima ma proprio l'immagine, la fotografia della musica è arrivata molto prima di tutto il resto e quindi dovevamo associare un nome che fosse in qualche modo diciamo internazionale ma anche di parole comuni, di uso comune nella lingua italiana di parole che si conoscono, che si usano e che non sono propriamente vocaboli italiani e devo dire in questo il nome non è stato scelto da nessuno di noi in questo un nostro amico che collaborava con noi al tempo se ne uscì col nome e insomma a noi è piaciuto subito perché rende perfettamente l'idea di qualcosa che sia comunque conosciuto da tutti di parole che sono usate anche nella quotidianità anche nella lingua italiana e quindi andava benissimo e rispecchiava anche l'idea proprio della musica alla fine, no? un synth pop, una synth wave The Public Radar è qualcosa che raccoglie anche in qualche modo il suono di questa cosa Assolutamente in questo immaginario molto preciso, musicale ma anche storico forse perché in effetti vi rivolgete soprattutto a quelle che sono le sonorità degli anni Ottanta fanno parte del vostro bagaglio sicuramente personale ma che cosa volevate prendere di quel momento storico? e volete ancora adesso? se vuoi ma io credo che l'intento da parte di entrambi sia quello di prendere una parte non meramente nostalgica perché poi alla fine se no sembra sempre che stiamo parlando sempre degli anni Ottanta non è quello in realtà noi poi siamo più figli vorrei far capire cioè per quanto siamo anzianotti però noi siamo più figli degli anni Novanta cioè noi abbiamo vissuto in pieno gli anni Novanta gli anni Ottanta sono stati quelli proprio dell'infanzia quindi no? con i vari Goldrick cioè questo è però secondo me ha lasciato un'impronta in ognuno di noi abbastanza forte da riecheggiare negli anni poi a venire quindi è come se ci fosse in qualche modo un riconoscere qualcosa di grande che non abbiamo forse vissuto perfettamente a pieno ma che ci appartiene e che ci apparterrà sempre alla fine poi a me dispiace dire questa cosa perché non è che gli anni Ottanta sono belli per noi gli anni Ottanta sono stati belli e basta appunto poi con tutte le sfaccettature chiaramente di ogni decennio insomma ci sono stati dei però musicalmente parlando non riesco a trovare una sì gli anni Novanta sono stati ottimi però io credo se posso aggiungere qualcosa a questo concetto io credo che la musica non vada mai da sola rispetto all'arte in generale e quindi probabilmente se pensiamo a quelle tre decadi degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta non voglio esagerare ma forse troviamo il 70% all'80% della cinematografia migliore in assoluto della più grande qualità a livello cinematografico e della più grande qualità possibile a livello musicale tant'è che oggi nel 2024, nel 2020, nel 2019, nel 2018 quello che vediamo al cinema, quello che ascoltiamo musicalmente ha una matrice proprio enorme dentro a quelle tre decadi in là e la musica io penso non sia un linguaggio che va mai da solo a prescindere poi dall'arte in sé in generale quindi credo che una cosa così qualitativamente importante ce la porteremo avanti per parecchio tempo ce la portiamo in effetti avanti anche a livello proprio immaginifico perché effettivamente anche chi non ha vissuto gli anni Ottanta in realtà è come se lo conoscesse molto bene nello stile, nella moda, nella musica, nell'arte in genere è vero, però anche grazie a di recente penso a serie televisive come Stranger Things che effettivamente riporta anche alle nuove generazioni un mondo che è stato meraviglioso ma che viene trasportato nei giorni d'oggi cioè non è nulla di non conosciuto e nulla di abbandonato in realtà è ancora vivo ed è tra noi è vivissimo, no no ma è giustissimo ma poi tra le altre cose che Stranger Things è la conseguenza di tutto quello che noi abbiamo detto portata negli anni nostri ma se uno pensa che la Warner ritira fuori ogni anno i Goonies e la gente va ancora a vederli al cinema quindi c'è qualcosa, ritorno al futuro è proprio un mondo che mi sarebbe piaciuto viverli quegli anni per capire il perché di tante cose però personalmente negli anni 90 invece comprendo quali sono i ricordi personali ovviamente legati a quelle cose e quindi me le riporto però chissà come sarebbe stato bello vivere gli anni 70 e 80 io me lo dico sempre a proposito di Goonies, a questo punto io vedrei subito il videoclip della vostra Endless perché infatti invito anche i telespettatori a riconoscere, a trovare il poster sono un po' di chicche esatto, quante chicche rispetto alla vostra storia, al vostro passato sicuramente troverete e godetevelo perché è veramente un cortometraggio non è soltanto un videoclip musicale godiamocelo insieme quindi chiederei alla regia di mandare Endless è un po' di chicche rispetto alla vostra 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 Grazie a tutti. 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 Per tutte le chicche sono state viste, però intanto la confezione del gioco dell'Atari non esiste Endless, ovviamente, quindi è ricreato. Esiste un gioco Endless, non lo sapevo, del Commodore. Comunque l'ho scoperto dopo, però hanno fatto tutto loro e il gioco stesso è stato proprio riprogrammato da loro, sono stati bravissimi. Molto, molto bravi. Il piccolo attore è anche straordinario con la... Il piccolo attore è mio figlio. No, è un piccolo attore. Molto semplicemente prendendo spunto da quelle che sono state dei piccoli briefing che abbiamo avuto all'inizio per cercare di, diciamo, lanciare l'album, chiamiamolo così, non perché non ci fosse il pezzo giusto all'interno dell'album, ma qualcosa che fosse un po' a parte, che magari fosse... No, creasse una sorta di apripista per tutto il resto. È venuto fuori questo pezzo e come dicevamo prima, in due giorni l'abbiamo fatto. Ci siamo visti a casa, perché lui ha uno studio, che è il suo studio, e ci siamo visti lì, abbiamo cominciato a registrare, abbiamo fatto... Io ho fatto le voci a parte, non da lui, poi lui l'ha missato, lo ha portato al Filmbox Studio a Helsinki, dove hanno fatto il mastering. Insomma, in tre giorni era pronto il pezzo. Quando nasce da dentro, proprio, un'esigenza personale. Ah, è Helsinki, quindi l'hai rimasterizzato. No, l'ho missato e poi sono andato a fare il mastering di questo pezzo, perché avevo bisogno di uno studio, di un posto che mi dicesse se andava bene, perché comunque avevo bisogno di un riscontro. No, lui è bravo, è bravo, è bravo. Perché siamo abituati a vivere, appunto, gli anni 80, a pensare gli anni 80 in Italia, però questo cortometraggio potrebbe, questo videoclip potrebbe essere ambientato ovunque. Brava, esatto. È stato proprio concepito con questo criterio, cioè di cercare di non localizzare esattamente tutto in un posto. Noi l'abbiamo registrato in un paesino che si chiama Cavriglia, quindi c'è più italiano di quello non c'è, però hanno trovato questa stanza completamente rifatta. L'hanno, sono stati veramente bravi, perché doveva dare un po' quella sensazione di, boh, chissà dove stiamo. Potremmo stare in America come, no? Assolutamente. Qui si vede che secondo me stiamo in un po' più italiano. Può anche essere Spagna, Francia, Francia, tutto, può essere bravo. È vero. A livello sonoro, io appena l'ho sentita, ho detto, wow, ma non sono i Depeche Mode, perché mi rendo conto che è qualcosa di diverso, però rimanda tanto a questo gruppo fantastico. Forse è di 40 anni fa. Esatto, esatto. Sì, tra l'altro l'ultimo album è come... Depeche Mode di 40 anni fa, magari, sì, sì, forse sì. E quali sono infatti i vostri punti di riferimento rispetto a quella musica? Comincio tu. Comincio io? Comincio tu. I punti di riferimento sono citati tutti dentro il video, quindi il gioco è coglierli tutti. Gunis. Perché non sono soltanto musicali, sono cinematografici e quant'altro, quindi, però sì, insomma, musicalmente, penso, insomma, la cosa sia chiara a tutti, i gruppi erano quelli, quelli che comunque poi, ecco, sono rimasti 40 anni dopo, quelli che avevano una grande qualità nello scrivere le canzoni, canzoni che cantiamo tuttora, non so, mi vengono in mente, non so, Talk Talk o penso Prince, no? Cioè, in senso, basterebbero questi nomi qui, Tears for Fears, Depeche Mode, cioè canzoni che dopo 40 anni noi stiamo là e ancora quando giriamo da qualche parte, andiamo in un posto, li sentiamo ancora queste canzoni, quindi, no, per la musica quello, no, è proprio il segno che identifica il fatto che c'è una qualità incredibile. Se ragazzini di 10 anni, di 9 anni o persone adulti più grandi di noi cantano, non lo so, It's a shame, e la conoscono o cantano Everybody Wants to Rule the World, alla fine, no, quelle sono cose trasversali, generazionali, o al concerto Depeche Mode ci possono stare, no, bambini di 8 anni e persone grandi e i nonni, e i nonni. Quindi, no, quella è la vittoria grande della musica, penso. E io vi auguro, come The Public Radar, di ottenere questo, e in effetti, guarda, è molto orecchiabile, rimane in testa Endless. Grazie. Quindi invito anche i telespettatori ad ascoltare tutto l'album, tanto è su tutte le piattaforme di streaming. Però, rispetto a quegli anni, anche proprio prendo pretesto di Depeche Mode, c'è una vela malinconica. Voi la volete calcare o comunque nell'album si respira qualcosa di diverso? Ma, diciamo che la partenza in generale, proprio nella composizione, uno tende sempre a fare, ah, quanto vorrei fare un pezzo tipo Yesterday, no? Ok, parto così, parto dal basso, tu fai quello, poi non lo sai se viene fuori, cioè, magari viene, non lo so, viene fuori Kerry degli Europe, cioè, non ne hai la più pallida idea. Alla fine è proprio un flusso che a un certo punto arriva, se arriva, perché non è detto che arrivi, un po' c'è il mestiere, un po' c'è la tecnica, un po' c'è tutto, e poi c'è l'ispirazione che si spera che quella sia la prima cosa che arrivi. Ma a volte non è così. Sì, purtroppo non ci vuole veramente il famoso 99% di sudore e l'1% ispirazione, quindi io posso dire, noi siamo tendenzialmente, sì, su una vela malinconica, ma che a volte può avere un vestito che la trasforma. Cioè, il vero dark dei Depeche Mode, secondo me, noi non l'abbiamo proprio. Depeche Mode sono pesanti, in senso anche positivo, lo dico, però sono comunque pesanti, oltre che i suoni, la vera natura delle parti vocali sono scure. Dave Gunn ha una voce scura, io canto quasi due ottave sopra rispetto a Dave Gunn, cioè, quindi anche quello dà un'idea un po' più di leggerezza. Poi con Steve, quando abbiamo cominciato a lavorare, lui aveva detto, diciamo, questo è comunque tutto sommato è un album positivo, non è un album così scuro. Quindi, detto da lui che ha lavorato con i Depeche, per noi, insomma... Album che non abbiamo nominato, in realtà, Neon Bane. Quindi assolutamente invitiamo, appunto, i telespettatori di Buongiorno Weekend ad ascoltarlo, perché per chi è appassionato di quegli anni, sicuramente ritroverà tanto delle sonorità di quegli anni. Però anche chi, invece, vuole scoprire una musica che prende ispirazione, ma comunque ha la sua forte personalità, assolutamente da ascoltare. Rispetto ai testi, ma velocissimamente, perché poi purtroppo vi devo salutare, appunto, anche, soprattutto nei testi, probabilmente c'è una voglia di positività, di energia. I testi sono, diciamo, l'unica parte di cui non ci siamo proprio occupati, perché abbiamo sempre affidato a Andrew McCauley, che era parte integrante del gruppo fino a un po' di tempo fa, poi, insomma, per scelte personali adesso non sta più con noi. Però i testi li abbiamo sempre affidati a lui, innanzitutto perché è idolo americano, quindi comunque c'è una correttezza nel dettaglio che magari potrebbe sfuggirci. E poi perché comunque conosce bene la nostra musica, quindi sa come far sposare le due cose. Sì, i testi non sono proprio il massimo della gioia, però... Però con una piccola, endless, così... No, endless ha un sapore un po' diverso, magari nostalgico, ma non triste, assolutamente non triste. No, no, infatti, infatti. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stati qui a Buongiorno Weekend, è stato un piacere avervi ospiti qui nel nostro studio, quindi grazie ancora a The Public Rider, Max Alto e Francesco Conte. Grazie, Neon Rain, assolutamente da ascoltare. Grazie, buona Pasqua, buone feste, buona Pasqua. Grazie anche a voi, giusto qualche minuto di pubblicità, torna Buongiorno Weekend con giusto un caffè a tra poco. E' vero che ti rimane in te?